Professore Sgarbi, siamo all'interno del Museo Regionale di Gela, una città di 75.000 abitanti che per 50 anni ha vissuto sulle spalle di una industria pesante che oggi non c'è più. Come si salva? Si salva riveditando quello che sopravvive di un passato glorioso con un museo importante come questo. Io da tempo incontro Crocetta perché ho una specie di turbamento personale. Mi dispiace che uno stia 5 anni in un posto di questo rilievo e anche non solo come carica ma come potere nell'autonomia della regione che è presidente della regione Sicilia e non lasci nessuna traccia di sé. Sparisce come fumo. Lui ho detto negli ultimi due anni, se gli mancano due, cerca di fare qualcosa e ho individuato Morgantina, come uno dei luoghi su cui può intervenire. Ma io credo che se lui, l'imperio, annulla quell'inutile e brutto progetto per il museo della nave e mi dà un incarico commissariale per fare un museo a Gela, prima che lui se ne vada in due anni si fa un museo bellissimo e si rimettano tutte le opere nel massimo dello smalto. Però occorre a qualcuno che non... lo dico perché avendo fatto un museo, ho fatto il museo della mafia, il museo della follia, il museo non ha bisogno di molto denaro di architetti, ha bisogno di un bello spazio in cui gli oggetti emergano dal buio. E se voi andate a vedere il museo della follia lo vedete, non so cosa abbia speso Filippini e quelli che hanno fatto l'allestimento, ma io credo che con due milioni di euro, che sono una cifra forse a disposizione della regione, uno possa fare un museo perfetto entro il tempo della scadenza di Crocetta. Io lo sfido a farlo. Senta, ma perché Crocetta a lei non l'ascolta ed ascolta altri che non gli fanno fare gran belle figure? Non è che... mi è venuto in mente in questo momento questa cosa, per lui lo dico, non per me. Cioè io credo che... Ma perché secondo lei a lei non l'ascolta ed altri sì? La gente può perdere tempo, vogliono guadagnare quattro soldi, quindi obiettivamente. L'articolo della Costituzione, adesso ho fatto un libro sulla Costituzione con Aynes, la Costituzione della bellezza, indica che la Repubblica è forata sul lavoro. Ma sono uno scemo che lavora. Cioè il lavoro è una bella cosa perché uno dica sono indipendente, ma quando viene da me un disoccupato e mi dice voglio lavoro, quando sei così felice che puoi non lavorare, perché puoi lavorare? Uno che sta in Sicilia come fa a lavorare? Non può lavorare. Ma non lo può dire però questo discorso a gelo oggi che abbiamo un mare disoccupati grazie allo stabilimento che va via. Ma questo non è il ragionamento che io dico perché loro debbano rassegnarsi a non avere lavoro. Dico che nella condizione del non lavoro, cioè dell'ozium, c'è un privilegio. E' chiaro poi che qualcuno deve pensare a te e alla tua sopravvivenza. Nel meridione non è difficile sopravvivere senza lavorare. Quindi voi partite già con... Finché ci sono i genitori nonni con la pensione poi diventa un problema dopo. Però è anche vero che tolto il tema sociale, tutto il meridione non è evocato a lavorare. Lo dico per rispondere alla domanda. Poi io sono uno che lavora e forse... Torniamo alla domanda. Come la salviamo questa città? No, a parte la città. Io penso come salviamo Crocetta e la sua anima? No, ci interessa più Gela che Crocetta, obiettivamente. La gente che dice cose molto semplici perché tutti rivendicano il lavoro, il posto. E quindi è distratto da persone che hanno come ambizione un piccolo cabotaggio delle piccole cose. Invece dovrebbe cominciare a immaginare più grande per la sua città e quindi far sì che la città avesse un museo in cui vanno, non so, 500.000 persone all'anno. Se questo capitasse sarebbe già un elemento di economia, cioè di ripartire dove è finita un'industria e ne comincia un'altra. Però non bisogna pensare che il lavoro deve cadere dall'alto quale che sia, perché allora il lavoro ideale sarebbe prendere denaro senza fare assolutamente niente. C'è l'assistenza. Tutto il sistema assistenzialistico esiste perché il Meridione non ha trovato la condizione di far fruttare la sua bellezza. E quindi c'è una dimensione parassitaria basata sul fatto che teoricamente sarebbe bene non lavorare. Ma soltanto alcuni posti... Perché Maracchè funziona e Gela no? Perché alcuni posti sono riusciti a conciliare l'identità dell'ozio e del piacere con quella del lavoro. Tu devi trovare questo modo. Non puoi pensare che l'industria risolve il problema di Gela. Quindi, fin tanto che la bellezza non diventerà produttiva, non si potrà continuare a starsene tranquilli senza fare niente, traendo vantaggio dal posto in cui sei. Cioè, il posto di per sé produce. Ecco, nel passato ha dimostrato... Però, professore, se la bellezza salverà il mondo, perché non dovrebbe salvare pure Gela? No, perché in realtà, prima di tutto, è il mondo che deve salvare la bellezza. Se io penso ad attrare qualcuno con un museo come questo, non ci viene nessuno. Quindi non basta la bellezza. Come lo spiega perché il critico d'arte è un museo così poco visitato? Appunto, perché non è respingente. Non è... non vedi le cose... Se tu vai a vedere il museo della follia, vedi che avendo speso pochissimo, uno ci va, entra volentieri, è attratto, è sedotto. Quindi si guarda come sono messi i cartelli, guarda come sono messi i fili. Le luci vanno verso l'alto invece che sulle opere. Cioè, è tutto... è tutto fatto così. Colpito una battuta mentre lo visitava. Sembra un museo ospedaliero. Cioè, il criterio è quello ospedaliero. Uno va all'ospedale se non è forzato ad andarci, no. Però al mare sì. Tu vai al mare, c'è una spiaggia. Ecco, ma ti spiego com'è la mia visione del comune. C'è una spiaggia. Non c'è la spendere assolutamente niente. Meno fai, più sei contento. Arrivi lì, ti butti l'acqua e poi c'è qualcuno che ti porta un po' da mangiare, eccetera. E lì ci vanno tutti e non c'è niente. L'ospedale ci vai tu, no. Perché l'ospedale non deve riparare una gomma, ovvero è un... Quindi è chiaro che dobbiamo togliere ogni elemento ospedaliero alla bellezza e farlo diventare come la natura. E' una città che ha questo museo, che ha le mura timolodontee uniche nel loro genere nel mondo occidentale. Poi ha un artista contemporaneo come Giovanni Udici eppure da tutto questo non riesce a trarre nessun beneficio. Bisogna cercare di trovare la soluzione, la strada più conveniente rispetto alla valorizzazione di quello che appare di per sé bello. Che una cosa sia bella non basta. Se tu prendi, ecco, questo vaso è bello, tu lo metti in questa brutta scatola bianca, con una specie di ve poi al buio, è come se fosse un malato all'ospedale. Cioè se tu, bello come sei, vai in giro così, ti metti la cravatta, ti guardano ragazzo o guardano me. E sei diverso da quando sei messo disteso in un ospedale con un buco nel naso. Eppure dice la stessa persona. La stessa persona. E quindi ognuno di noi deve essere messo in spolvero. Senti, ho capito che Crocetta rimane comunque, nonostante tre anni e mezzo a vuoto, una risorsa per Gela. Mi pare di aver capito che secondo il professore... Non lo so, io l'ho visto ieri sera, viene da me domani sera a cena, dopo domani a cena, quindi... Ma io l'ho sfidato, dopo che non so cosa sia capitato fra noi. Ah sì, che lui non è riuscito a risolvere il problema della fondazione Piccolo. Sarà stata l'unica cosa che non ha risolto, evidentemente. L'ho un po' insultato in intervianza, lui mi ha telefonato, vorrei vederti per trovare delle soluzioni. Poi l'ho incrociato per strada, ho detto, guarda, a me dispiace il fatto che tu passi cinque anni come fossi aria. Cioè non rimarrà nulla, facciamo una cosa. Così è questa sfida, ma al di là della politica... Scarmi, le voglio solo ricordare, ma lo sa che ha fatto anche quasi otto anni il sindaco di Gela, quindi ne ha avuto di tempo per... Però, se adesso che ne ha di meno, se ne viene che corra, no? Vanno che la vita... Io di cose ne ho fatte tante. Ma dipendiamo sempre dalla politica per risolvere i problemi. No, quello sta lì, quattro soldi li puoi spendere in un modo o nell'altro. No, non è che li puoi far spendere a lui che fa il dipendente in un museo della regione. Fali spendere alla regione indirizzandoli in modo giusto. Io non lo so, poi o meno... Non è che io ho il problema di crocetta. Senti, invece, torniamo, professore, al problema anche culturale, no? Perché ti dicevo un'apertura a cinquant'anni in cui la città si è aggrappata alle spalle del Leni, punto e basta. E adesso lì bisogna cambiare proprio radicalmente pensiero. Ma abbiamo sbagliato, diciamo, dalla ricostruzione del secondo dopoguerra, abbiamo sbagliato quasi tutto rispetto al paesaggio, rispetto all'edilizia, rispetto all'industria. E' stato un errore del boom economico che ha portato alcuni benefici immediati e molta gente si è arricchita e ha portato a non risolvere il problema della povertà e del lavoro. Ma questo è un dato oggettivo. Però non è che possiamo ricominciare adesso, cioè dobbiamo meditare al fatto che abbiamo perso 40 anni circa. Bisogna vedere cosa rimane, quali sono le rovine su cui ricostruire, è un luogo dove le rovine sono la memoria storica, è un luogo al cui puoi pensare di ricostruire. Ma non mi pare che sia messa meglio neanche a Grigento, forse Ragusa, l'area intorno a Modica, Scicli ha trovato un po' di riscatto nella... Insomma, però, la bellezza... Ci vorrebbe un Montalbano anche da queste parti. Soprattutto bisogna far sì che la bellezza produca l'effetto di cui parla Dostoevsky, però lo può produrre se è veramente bella. Se tu prendi una bella ragazza, la graffi tutta, la metti spogliata, abbandonata, ti sembra una poveraccia, tu invece la valorizzi. La bellezza è la stessa cosa. Senti, ma se invece del presidente della regione, Crocetta, fosse un altro gelese a chiederti di collaborare, per esempio il sindaco di Gela. Ma gli ho parlato anche a lui, però, poi gli ho parlato dal primo giorno in cui ho stato nominato a Salinitro, che è venuto a trovarmi. Poi non l'ho più sentito. Poi ho difeso il sindaco quando gli hanno intimato di dimettersi, per cui io sono disponibile. Certo, non è che posso continuare, io non ho bisogno di bussare, non lo dico per orgoglio, perché è assolutamente pieno di cose. E se uno non mi chiede di fare qualcosa, io non è che corro per chiederglielo, perché ho tutti i giorni occupato. Però se me l'avessero chiesto, avessimo pensato di fare un progetto comune, io sarei stato assolutamente disponibile. Poi non è che oggi si possa risolvere nulla. Però dico, alcune cose così importanti non si risolvono con un brutto museo in più. Cioè l'architettura del museo è già il segno di un errore di partenza rispetto alla bella idea della nave. Ci vuole uno spazio meno costoso, più semplice, più attraente. Io suggerirei per Gela di ricorrere non a me, o perlomeno a me se uno vuole dei consigli, ma all'operatività di questo bravissimo scenografo che ha lavorato per Maresco, che si chiama Cesare Inzerillo, che è quello che ha fatto il Museo della Mafia, che è uno che con poco può fare molto. E questo è, il talento è questo, fare una cosa ben fatta e non fare un ospedale, l'ennesimo ospedale. Senti, in sintesi cosa verrai a dire ai Gelesi oggi in questa tua visita? Non ho un libro, quindi non dico niente. Nessun messaggio? Ma non mando messaggi, non sono un profeta. Mi pare buono il messaggio del Papa che la Chiesa si faccia povera. In effetti... È dura, è molto dura. In effetti... Grazie.